La questione triestina Ceva, se ne è parlato a lungo nel corso del cordiale colloquio tra i rappresentanti delle due nazioni amiche, avvenuto in una sala della fastosa Villa Carminati nei pressi di Dallarate. Ora, davanti al microfono, Darl sporge all'Italia l'augurio e il saluto del popolo americano. Ceva lo ringrazia per aver accolto il suo invito. L'Italia attende fiduciosa l'esito di questo breve e cordialissimo incontro. Grazie a tutti.